Siamo nel comune di Albanella e stiamo davanti all'abitazione di Giuseppe Gaudiano, qui conosciuto nella comunità come Peppino. Il 51enne ormai da 10 giorni quasi è scomparso dal comune nel nulla e non si hanno più notizie. Come potete vedere dalle immagini, l'immobile è stato sottoposto a sequestro. Qui le indagini continuano e sono venuti anche RIS per fare tutti i sopralluoghi necessari alla ricerca di elementi utili per ricostruire tutta la vicenda e per cercare di risalire a questo che ormai è diventato un vero e proprio giallo. Le ricerche sono continuate in modo incessante in questi giorni e sono stati battuti anche i corsi d'acqua, sia nella vicina Altavilla, in particolare nella contrada di Borgo Cariglia, e sia qui ad Albanella nella contrada di Bosco, quindi sul fiume Mallome. E purtroppo nessuna notizia, le ricerche non hanno avuto nessun esito. Comunque le speranze sono ancora vive, si continua a cercare e le indagini sono tuttora in corso.